Guardate, tifosi rosa-nero, è appena arrivata un'informazione urgente al Milan, il portiere si è sfilato al Milan ed è già fiducioso per un futuro rinnovo, i tifosi stanno impazzendo per questa notizia. Non ci crederete, cosa sta arrivando al rosso-nero puoi festeggiare, ma prima di condividere questa notizia, iscriviti al canale per non perdere lo sviluppo di questo contratto perché ti aggiorneremo in prima persona. Mike Magnan continua ad affermarsi come uno dei migliori portieri al mondo. E il Milan inizia a pensare a un possibile rinnovo. Come riporta calciomercato.com, il Milan è stato costretto a sopportare cinque mesi senza Magnan a causa di un problema al polpaccio che gli ha causato. Non pochi grattaccapi, ma ora è tornato. Il francese sta mostrando alla squadra il suo valore e il suo status di portiere d'élite. Lascia già il tuo mi piace in questo video, perché è molto importante per non perderti le ultime notizie da Milano, che abbiamo pubblicato qui, grazie. Intanto il Milan sa di avere in mano uno dei migliori al mondo. E anche se il suo contratto è fino al 2026, Paolo Maldini e Ricky Massara stanno già pensando a un rinnovo e a un aumento di stipendio dagli attuali 2,8 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni, quindi, è attesa una trattativa con l'agenzia che cura gli interessi di Magnan con il chiaro intento di aumentarglilo, stipendio e renderlo uno dei più pagati della rosa rossonera. Si parla molto dell'interesse del Tottenham, ma Magnan sostituirà Uge Loris nella rosa della Francia solo perché il suo presente e futuro è al Milan. Sì. Tifoso del Leone, secondo te il contratto di Magnan dovrebbe essere rinnovato oppure no? Qual è la tua opinione? Mettetelo nei commenti, perché è importantissimo per la nostra squadra rossonera. Restate sintonizzati, vi aggiornerò in qualsiasi momento con le ultime notizie dal Milan.